Buonasera amici delle storie Horumore. Oggi dovevamo partire col lavoro con Bruno, ma ci sono state diverse problematiche. E quindi oggi ci sarò io a condurre le storie Horumore e partiremo proprio con un'intervista con Bruno. Ma come di consueto prima la sigla e poi partiremo col filmato. Via con la sigla! Buonasera a tutti! Eccoci qui di nuovo in onda. Allora, ben ritornati amici e siamo pronti a intervistare il nostro Bruno. Bruno, ci sei? Sì, ciao a tutti, sono io il vostro Bruno Dizzul. Innanzitutto per me è bellissimo essere qui con voi in onda. Anche per me è davvero un piacere verti in onda, Carlo Bruno. Ho gli occhiali uguali al Dottor Viaggingi Lucozzi, è un mito per me, lo adoro. Sei il numero uno e poi voglio fare i complimenti anche a te, Angelo, perché sei un conduttore fantastico. Sei un altro azzeccato per queste storie. Grazie, grazie a te. E voglio dirvi però una cosa. So che purtroppo ho rimosso il video di lavoro con Bruno, sto facendo un po' tardi. Sto facendo davvero molto tardi. Sto facendo tardi cose che non mi andavano bene. Se non ti cominciavi hai fatto bene, bravo, bravo. Non l'ho fatto allora. Quindi ho detto, lasciamo perdere. Meglio così. Lo rifacciamo meglio, signori. Lo rifacciamo meglio perché io sono abbastanza critico con i miei video. voglio esserlo critico perché voglio proporvi qualcosa di divertente. E io voglio essere divertente per voi, quindi quello era un po' piattino. Quindi ho detto, no, vabbè, ma magari non piace, non fa ridere. Io ringrazio anche Giovanni, la macchina del tempo, perché mi aveva commentato, mi ha detto, vada come vada, ci sarà da ridere. Allora, ci sarà da ridere? Sì, ma non in quel video. Quindi ce ne sarà un altro video che faremo ovviamente io e la signora Maria. Ci sarà anche il Paolo. Ma poi, avete visto? Ma si è fatto biondo il Paolo, l'avete visto, ragazzi? Si è fatto biondo. Cioè, una roba allucinante, fa paura. Sì, 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 ma davvero, si è fatto biondo. Si è fatto biondo. Si è fatto biondo. Fa paura, fa paura proprio. Sta benino, dai, non sta male. Comunque, io dico questo, basta se non ho cominciato di lungo troppo. Ti sto rubando tutta la scena, scusami tanto, Angelo, perché sei davvero fantastico. E quindi, niente, un bacione a tutti quanti i miei fans. Un abbraccio forte a te, Angelo, perché sei il numero uno. Ma grazie, grazie. Forza a tutti quanti noi che ritorneremo tutti sull'autobus. Grazie. Il vostro autista, cioè io. Grazie, grazie mille Bruno. Sarà fronte a riospitarvi tutti. Grazie, sì, assolutamente torneremo sull'autobus. Certamente, certamente. Un abbraccio forte. Grazie, eh. Numero uno, eh. Assolutamente torneremo a ridere. Sì, sì, sì. Grazie mille Bruno per essere stato qui in live con noi e noi, amici delle storie Horumor. Ci rivediamo a prossima puntata. Grazie a tutti e buona serata belle gioie. Al prossimo episodio con le storie Horumor. Grazie. Grazie a tutti.